E ci direi che il minuto di silenzio, se è possibile, grazie, grazie. Ci sono uomini uomini e ci sono uomini violenti. Ci sono uomini che amano e altri che sanno solo ad adattare e fare il perdono. Ci sono uomini e non ci sono uomini. C'è la violenza, non c'è l'amore. Ci sono le donne. Ci sono donne incassinate al fiero del cuore, incassinate in situazioni sconfogate, intragenti e familiari di voglia, impessati. Dove che anche se sono forti, dovrebbero uscire sottoportare loro sofferenze e sopportazione agli allattamenti fisici e psicologici di uomini violenti. Ci sono uomini di scopri, di violenza sessuale in ogni angolo, di sfinte, amori, giovani o non giovani. In ogni tempo, in ogni modo, ci sono uomini raccoccianti, ipercosse, insulti, irritate, schiaffi, umili azioni. Ci sono donne incassinate, si vengono compostate, si sono nude. Voglio apprezzare, voglio apprezzare l'indicità, tradire, la cultura che diceva mia madre. Revece buona, per la nuova violenza, per la moderna. Ci sono amici e parenti, che salutano le persone più venute o tardi. Ci sono pochini di sfinti, che assistono ai potenti e identificati alle linee che sono subite dai nati e la violenza sessifica. A tutti voi, se vi usa la violenza, vi usate la testa, lasciatelo, lasciatelo, prima che siano affronati. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.